E' un professionista, ti ho detto. Ieri sera, hai intercettato un messaggio cifrato? Sul tesoro di Mussolini, è la nostra occasione per riprenderci tutto quello che ci hanno rubato. La prefettura è un mattatoio. Ci servono solo tre uomini. Devono per forza essere uomini. Il ladro. L'esperto di esplosivi. Viva l'anarchia. L'autista. Giovanni Fabri, il campione della mille miglia. Fabri non è affidabile. Perché? Vabbè dai, che cosa rubiamo? Ladro. Lascia stare i von. Se no puoi finire appeso. Tu e i tuoi amici straccioni. Voglio mica finire appeso per una sveltina, eh? Non ti prometto niente? Quando la gente ci guarda, vedete pezzenti? Io no. Io vedo dei virtuosi. E adesso l'occasione per dimostrarlo. Giù, giù, giù! Qualcuno mi ha detto che nessuno è più furbo della storia. Fai un culo la storia. Fai un culo la storia. E poi, con sul massimo. E adesso la storia. E' prix. Ma che la storia. E' più un' acapa. E' più un' acapa. E' più un'accomapping. E' più un' acapa. E' più un' acapa. Grazie a tutti.